Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione tendenze energetiche affettive per la seconda metà di dicembre 2023. Ultima lettura dell'anno ragazzi e abbiamo, wow, la carta della stella. Bene, nuovi obiettivi, quando c'è la stella è sempre una carta che parla un po' di destino, come se doveste avvicinarvi a un momento predestinato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui e poi ci sono i link alle previsioni del 2024 che sono 4 oroscopi e al corso di tarocchi di gennaio 2024. Bene, partiamo subito con un asso di bastoni, cavaliere di bastoni, regina di bastoni, sette di bastoni, nove di pentacoli, quattro di spade, due di pentacoli e cinque di bastoni. Allora devo dire la prima cosa che mi colpisce è che avete tanti bastoni, tanto fuoco, tanta passione, tante energie che si muove. Partiamo da questo asso, l'asso è un inizio, può essere un inizio di tipo passionale, può essere un incontro ma è anche una carta di azione, di movimento, come se ci fosse stato un incontro o un supposto inizio e poi vediamo questo cavaliere di bastoni e al contrario è la regina di bastoni. Ho come l'idea che ci potrebbe essere un incontro ma poi uno dei due potrebbe tirare un pochettino indietro, più facilmente è l'altro. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, carta per carta di che cosa si tratta. Stavo guardando perché avete una carta di destino ma qui non avete neanche un arcano maggiore. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, è caduta una carta, adesso la recupero, regina di pentacoli e fante di pentacoli. Allora devo dire che la sensazione che ho è che questo incontro sia tra due persone con una certa diversità di età. Ah ragazzi, una cosa, io leggo le carte diciamo con l'energia che va per la maggiore ma sono stese per i rapporti affettivi, possono riguardare le coppie ma anche le amicizie o le relazioni familiari, quindi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora come vi dicevo sento che c'è differenza di età potrebbe esserci una differenza di stato sociale a livello economico, come se uno dei due guadagnasse molto di più dell'altro. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, eccola la stella, è un carro. Allora se questa persona, cioè ho come la sensazione che ci sia qualche, che siate un po' desolati, che siate un po' senza speranze per quello che riguarda i movimenti di questa persona. Voglio andare a vedere la regina. 8 di bastoni e 5 di bastoni. Allora io qui, a parte che anche qui ci sono carte di bastoni, quindi sento proprio questa zona della lettura calda, ragazzi, infuocata. E soprattutto da un punto di vista di chimica, di passione. Ho come l'idea che qualcuno voglia sedurre un'altra persona. Ho anche la sensazione che farete proprio un lavoro di restyling, trucco, parrucco, abbigliamento, cioè proprio una cosa come se fosse una comunicazione non verbale. Sono qui, guardami quanto sono bello, quanto sono bella, quanto sono affascinante, insomma. Perché sento che qui c'è qualcuno che si sposta. Cioè, nel senso, è come se ci fosse un'energia che inizia, qualcuno che si ritrae, è una perdita di speranza da parte dell'altro, è qui come un tentativo di riconquistare l'altra persona. Andiamo a vedere le sette di bastoni. Sole e remita. E' come se qualcuno non accettasse di rimanere solo amici, o non accettasse di viversi una relazione solo così, diciamo, alla leggera. Ho come l'idea che il vostro obiettivo sia quello di concretizzare questo tipo di relazione. Però vi dico, abbiamo anche un nove di pentacoli. Adesso andiamo a vederlo. Otto di coppe e torre. Allora, in questo caso, perché il nove di pentacoli è collegato all'amor proprio, però abbiamo anche la torre, che è la caduta dell'ego. Siccome tra amor proprio e ego il confine, insomma, può essere sottile a volte, qui ho come l'idea che dobbiate, o meglio, che sarete portati a un momento di introspezione, di valutazione di voi stessi, di crollo di certe certezze. È come se arrivasse un momento dove vi dovete guardare dentro. Diciamo che è una carta di forte autonomia, di forte indipendenza e di appagamento, proprio anche da un punto di vista pratico, materiale, concreto, anche finanziario. Però è come se c'è qualcosa che non basta, c'è qualcosa che non completa, perché un nove non è un dieci. E qui, infatti, abbiamo un quattro di spade, che è una carta di guarigione. Va bene. Dieci di coppe. Eh sì. E sei di spade. Ho come l'idea che stiate... nonostante le differenze che ci possono essere tra voi e questa nuova persona che conoscerete, o magari non è una persona nuova, magari la conoscete già e, diciamo, nella seconda metà di dicembre si approfondisce la conoscenza di questa persona, diciamo, diventa più intima. Però ho come l'idea che qualcuno, appunto, vorrebbe qualche cosa di più da questa relazione. però c'è da allontanarsi da certe idee, sei di spade, le credenze limitanti, le... diciamo, le credenze che si sono acquisite durante l'infanzia, quelle che limitano, e potrebbero essere credenze inerente all'unione familiare, al completamento, al senso di pienezza che uno ha. ok? Perché qui, effettivamente, vi vedo con tante cose, con una sorta di stabilità interna, magari anche caratteriale, ma manca... manca una questione emotiva, o come questa sensazione. Allora, per qualcuno si tratta, diciamo, verso la fine dell'anno, praticamente, anche perché qui abbiamo il carro, e qui abbiamo sei di spade, molte persone si allontaneranno fisicamente da una situazione, tipo che faranno un viaggio. vedo molti... diciamo, ritiri in eremitaggio, qui abbiamo tre carte che mi parlano di un ritiro spirituale, di un momento di isolamento, di qualcuno che si prende un tempo per sé. avete bisogno di dedicarvi questo tempo, più che altro per fare il punto della situazione, per capire che cosa è importante per voi, per capire da dove arriva quel vuoto che sentite, per capire se le idee che avete per quello che riguarda la relazione in generale, la famiglia in generale, le amicizie in generale, magari sono reali, combaciano ancora con chi siete voi oggi, oppure se dovete, diciamo così, cambiare certe credenze su cui si è basata la vostra vita fino ad adesso. Tipo, mi viene in mente, per farvi un esempio come un altro, eh? Quando ci sono in alcune famiglie dove si dice la famiglia è tutto, bisogna sacrificarsi per la famiglia, o cose di questo genere, no? fino al punto di andare contro la propria morale per, ipotesi, coprire una marachella di un proprio familiare. Ecco, questa è un'idea che magari è stata inculcata quando si era bambini, ma che non vibra più con voi perché al giorno d'oggi siete persone che non vanno più contro la loro morale. Quindi se reputate che una cosa è immorale, che sia della famiglia o meno, ma quella persona non la aiutate. Questo per farvi capire. Andiamo a vedere due ripentacoli perché qui, grazie a tutto questo lavoro di introspezione, si esce da un ciclo carmico ripetitivo, si esce da, direi, una zona di conflitto. Ruota della fortuna e morte. Infatti, sono due carte di cambio. Siete working in progress. Secondo me questo tipo di cambio lo vedrete poi nel 2024, eh? Perché comunque la ruota della fortuna è girata al contrario. Sono tutte e tre girate al contrario, e quindi è come se stesse entrando questo tipo di energia, ma ancora non fosse radicata. Ragazzi, avete la stella. Nutrite delle speranze, ok? Adesso va bene. Qui è inerente a questa persona, ma se avete degli obiettivi di vita, se avete, diciamo, questa pienezza come obiettivo siate poi coerenti con quello che vi rende pieni qui, attraverso questa fase di introspezione, questo momento che vi prenderete per voi. Guardate che il ritiro non è che deve essere fatto per forza in montagna, cioè nel senso, molte volte basta spegnere il cellulare per due giorni, tutto un fine settimana, spegnere il computer, non farsi trovare, e semplicemente nascondere gli orologi, cioè non guardare mai l'ora, e semplicemente farsi, cioè ascoltarsi di che cosa bisogna il mio corpo in questo momento, di sonno, di cibo, di questo, di quell'altro, e soddisfate, soddisf... e insomma, soddisfacete, non so come si dice, questo bisogno. Si soddisfa, ecco, questo bisogno. Va bene, andiamo a vedere un oracolo e poi un'angioletta. Comunque ragazzi, sento tanto fuoco all'inizio e poi un attimino di passi indietro nella seconda parte, perché è come se, sì, il fuoco c'è, ma manca qualcosa. Voi vorreste andare diciamo un po' più a fondo di quello che potrebbe essere l'amicizia, di quello che potrebbe essere, cioè è come se si volesse diciamo instaurare un rapporto più concreto, però qualcuno lo vede un po' come una cosa utopica proprio per la differenza di ceto sociale o di ruolo o di stile di vita, non lo so. Comunque qualcuno lo vede improbabile per questo motivo qui, però anche lì avete 6 di spade potrebbe essere che è solo un vostro modo di vedere le cose. Va bene, però dopo ci sarà appunto come una presa di coscienza, una presa di consapevolezza, un lavoro su se stessi che inizierà a dare il via a questa trasformazione, a questo cambio ciclico, alla fine dei conflitti, darà il via a un momento, un periodo molto più tranquilli rispetto a quello precedente. Andiamo a vedere un oracolo. Allora, incontrerete qualcuno di nuovo, questo è appuntamento. Ragazzi, arriverà un incontro, arriverà un appuntamento inaspettato. Vi dico, potenzialmente perché poi questo cavaliere è girato al contrario, quindi è come se qualcuno vi seducesse da lontano o come questa sensazione oppure fa quegli strani giochetti del tipo sì, ti faccio il complimento ma poi, ah ma no, ma io non ho detto niente, ah ma non volevo dire quello. Sono quei tira e molla un po' così, no? Che vi fanno magari anche dire no, vabbè, ma io non ho speranze, è solo la mia testa. Ok? C'è questa stella al contrario che è come se sì, sì, non avesse le speranze con questa persona, però poi in realtà una parte di voi si, diciamo, si impegna a restituire questo, questo flirt, questo corteggiamento da lontano o come questa sensazione. Fatemi sapere nei commenti perché è proprio interessante questa lettura, anche perché è molto specifica. Andiamo a vedere, ok, rivelazione, ragazzi, qualcuna si rivela, eh, o qualcosa vi si rivela, ma manca la carta del giudizio e poi siete a posto perché con tutto questo momento, l'ultima, la quarta settimana di dicembre direi, c'è tutto questo momento di introspezione e qui arriverà una rivelazione. Qui vedete che la Fatina ha il sesto chakra, questo sarebbe il settimo in realtà però, vabbè, zona alta, illuminata, come se avesse avuto appunto l'illuminazione, la canalizzazione della stella, l'informazione che arriva, eh, per cui qualcosa vi sarà rivelato. Prendrete consapevolezza di qualcosa e da lì inizierete un cambio che secondo me parla proprio di un cambio karmico perché avete torre, due di pentacoli, ruota della fortuna e morte. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura, spero che comunque vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. se avete piacere potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro, io e gli angioletti, vi auguriamo un Natale veramente sereno, che possiate stare con i vostri cari, insomma, che possiate passarlo in abbondanza. e niente, io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!